Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia, mamma mia, stiamo per parlare di un sacco di cose super interessanti per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite, mamma mia! Ragazzi, nel video di oggi parleremo dell'evento SHARE THEIR LOVE. Condividi l'amore, quello che comincerà proprio tra pochissime ore. Parleremo anche, se avremo tempo, di una grande notizia per i server privati, ragazzi. Sembra aprirsi uno spiraglio per alcuni di noi e ovviamente, ragazzi, un bel po' di leaks che potrebbero aiutarvi e farvi vedere delle cose che vi potranno interessare sicuramente. Vi ricordo intanto che siamo con gli amici, ragazzi, del gruppo Telegram di Fortnite Italy. Andate a dargli un'occhiata. In descrizione c'è il link, mi raccomando, passate da loro. Ma ragazzi, la domanda, la domanda, non posso non farvela e ci tengo tantissimo che i vostri commenti qui sotto siano davvero tanti. Li leggo, metto i cuoricini, li leggo. È una domanda, ragazzi, molto molto semplice. Sei in hype per la season 8? E dai, porca miseria, ragazzi, cosa ne pensate di questa season 8? Quello che state vedendo, quello che state vivendo in questi ultimi giorni della season 7, cosa vi fa sentire? Ditemi un po' i vostri pensieri, ragazzi. Quello che pensate arriverà nella season 8 e che emozione vi sta trasmettendo in questi giorni. Vi ricordo comunque, ragazzi, di lasciare un bel like se vi piacciono i miei video, supportarmi nello shop con il codice creator Xyuderone e mi raccomando, attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma quindi, ciancio alle bande! I bando alle ciance! Andiamo subito, subito, ragazzi, a vederlo. È lui, qualche secondo sprecato, anzi, investito, per la terza fase del prigioniero, ragazzi. Eccolo qua! Lo potevamo trovare da ieri, ragazzi, nel falò dove c'è la mappa, quella in poche parole, mostrata anche nella scremata di caricamento di questa settimana. L'ultima ufficiale della season 7. La montagna è quella, ragazzi, tra, come si chiama, corso commercio e la parte più in alto verso il Porco Giuda, scritto troppo in piccolo. Insomma, ragazzi, alla sinistra della pista dei kart. Sono sicuro che sicuramente tutti voi lo avrete già sbloccato e devo dire che mi piace davvero molto, molto, perché ci sta un botto le parti invenate di lava. Mi piacciono davvero tantissimo. Ma cominciamo, ragazzi, a parlare dell'evento che comincia tra pochissime ore con l'arrivo ufficiale della patch 7.4. Ragazzi, incredibile. Che cosa ha creato Fortnite per mantenerci sempre attivi nel proprio Battle Royale. Come vedete, queste sono tre skin. E, ragazzi, dai, ragazzi, dai. Cioè, io amo il Love Ranger, la mia skin preferita, e non c'è storia. Ma vogliamo mettere il lama con scritto Mr. Love. Raga, dai, GG. Il lama col cappello da pappone e l'asciugam lì, come si chiama, e la capotoio coi cuori è OP. Io veramente spero che arrivi nel Battle Royale perché me lo prendo, me lo prendo, me lo prendo, me lo prendo, ragazzi. L'evento Share the Love. Innanzitutto, primo tweet ufficiale confermata la patch 7.4 Tuesday. Quindi arriva oggi, giovedì. Ma andiamo avanti. Cosa è questo evento? Innanzitutto, ricompense sfide a tempo straordinario. Avete completato le vostre dieci sfide settimanali e ne volete affrontare altre le vostre dieci settimane, intendevano loro? Ci pensiamo noi. E qua ci riallacciamo a un video che ho fatto qualche giorno fa che parlava di una possibile settimana 11. Eccola qua, ragazzi. A partire dalla versione 7.4, da oggi, tutti i giocatori avranno accesso a nuove sfide a tempo straordinario aggiuntive. Completate queste sfide entro la fine della season, il 27 febbraio termina la season per sbloccare 5 nuove ricompense, tra cui la copertura San Valentino e la scia piante rampicanti. Ci sono, ragazzi, delle cose interessantissime. E per chi ha il pass battaglia, aggiungono le ricompense per le sfide, includeranno nuovi stili sbloccabili per i costumi, trog, polvere e calzamaglia. Eccoli qua, ragazzi. Adesso io vorrei dire una cosa che ho notato. Trog. Lo vedete, questo trog qua? In questa versione andate a vedere il Re Leone, ragazzi. Andate a vedere il Re Leone. C'è la scimmia che è esattamente pitturata come trog. Molto bello anche il costume di calzamaglia con il maglioncino natalizio. Direi che siamo a febbraio, ci sta proprio bene. Molto bello anche polvere, invece, in questo modo. Questo weekend, ragazzi, dal 15 al... Scusatemi, il prossimo. Dal 15 al 17 febbraio e dal 22 al 24 febbraio ci saranno i punti XP doppi. Quindi, ragazzi, tutti voi avrete la possibilità di sicuramente terminare il pass battaglia, ma anche provare ad arrivare al livello stagionale 100. Vi ricordo, sbloccando così tre oggetti esclusivi. Standardo, adesivo e spray. Ma andiamo avanti perché è anche follia di isole in evidenza. Per celebrare le idee brillanti dei creator nella community, presenteremo una serie di isole in evidenza nella modalità creativa di Fortnite ogni singolo giorno. Quindi, ragazzi, isole nuove ogni giorno. La follia di isole in evidenza inizia il 12 febbraio e termina il 22. Mostrate il vostro sostegno entrando in modalità creativa ogni giorno. Tanta roba anche per le sfide. Competizioni. Questa è la parte più interessante. Arriva la serie di competizioni. Amore per tutti. Nel weekend, questo, del 9 e 10 febbraio, organizzeremo una serie di batterie di piazzamento. I migliori giocatori si piazzeranno direttamente nelle divisioni più alte, quindi aperte a tutti. Introdurremo alcune nuove funzionalità del sistema dei tornei, ci saranno anche dei matchmaking diversi durante la serie Amore per tutti e altre verranno sbloccate con l'aggiornamento della versione 7.4. Si parte dalla divisione aperta, si passa nella divisione aspiranti, si va nella divisione contendenti, si termina nella divisione campioni. Sono davvero tanta, scusatemi, sono le quattro divisioni in cui si suddividono in questo torneo. I giocatori sbloccheranno la divisione successiva, no, invece è giusto. I giocatori sbloccheranno la divisione successiva ottenendo una spilla durante una qualsiasi sessione. Ci saranno le finali, ragazzi, il 23 e 24 febbraio. Provate a partecipare perché sono davvero super interessanti. Vi ricordo anche che se inserirete il mio codice creator da oggi, Xiu Derone, otterrete, ragazzi, anche questa bellissima copertura per veicoli e armi. Si chiama la copertura di San Valentino. Davvero tanta, tanta roba. Mi raccomando, il codice è Xiu Derone. Ve lo ricordate sicuramente. E ragazzi, c'è anche il nuovo spray del Fortnite Share The Love. Dice, qua dice di andare a cercare gli spray nelle competizioni. Non si capisce bene se sia ottenibile o se sia per qualche cosa. L'evento è aperto per tutti e termina il 27 febbraio. Chiudo, ragazzi, il video con il X-Proot, con lo violento. Questa, ragazzi, è la scia Piante Rampicanti, quella di cui vi ho parlato all'inizio del video. Insomma, tanta, tanta roba anche per questa scia che non so bene cosa centri con San Valentino, però, finché le cose sono gratis, noi le accapariamo e ce le mettiamo nell'aromadietto. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi questo video, mi raccomando, un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi in tantissimi al canale, noi ci vediamo presto. Ciao! Grazie!